La nostra puntata quest'oggi è dedicata ad un argomento importante, l'abbiamo sfiorato più volte, lo abbiamo fatto dal punto di vista dei pedoni proprio la scorsa settimana, l'abbiamo fatto dal punto di vista dei ragazzi, dal punto di vista dell'Automobile Club che ha messo a punto alcuni corsi, però ragazzi quest'oggi ha davvero un chedi istituzionale perché il nostro ospite sarà un funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accompagnato da un responsabile, un delegato dei Lions, altra associazione importante da sempre a fianco di ognuno di noi, non soltanto degli automobilisti, insomma c'è un'iniziativa che parla di sicurezza e di formazione, importantissima per i nostri ragazzi, l'educazione stradale si impara da ragazzi, perché i numeri lo dicono e così sono. Stradamiche è il nome di questo progetto molto importante, i numeri ahimè parlano chiaro, nel 2017 sono aumentati le morti causati da incidenti stradali e secondo i dati raccolti anche dalla polizia stradale ai carabinieri si sono registrate 30 vittime in più rispetto all'anno precedente e nei centri urbani purtroppo il maggior numero di vittime, quindi più di un incidente mortale al giorno e questo è davvero allarmante. La strada è sicuramente uno spazio condiviso da tutti e quindi per renderlo, Stefania, sicuro serve l'impegno di tutti. Vediamo! E sì, è proprio vero. Nonostante le campagne sociali, nonostante comunque il senso di responsabilità che si cerca di mettere nella gente, proprio a guardare la strada, la strada in fondo è uno spazio condiviso e tutti tentano di farlo diventare più sicuro, c'è l'impegno da parte di tutti, ma nonostante questo le vittime sulla strada ahimè aumentano. Sono aumentate nel 2017, i primi mesi del 2018 registrano anche un aumento, ma qualcosa comunque si sta muovendo da parte del Ministero, da parte delle infrastrutture e dei trasporti attraverso nuove campagne, nuovi progetti di formazione e di sensibilizzazione. In fondo il codice della strada non è soltanto un codice di norme che va imparato, impartito e basta. Al centro di tutto c'è comunque la vita della persona umana e quindi la propria vita e soprattutto anche quella degli altri. E a parlare di questo argomento oggi un ospite importante, il dottor Giuseppe Lomazzo, che è un funzionario del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che ci parlerà di un progetto molto importante che si chiama Strada Amica. Grazie, il progetto Strada Amica è un progetto che prevede degli incontri sul tema dell'educazione stradale ed è un progetto che il Proveditorato interregionale per le opere pubbliche Piemonte, Valdaosta, Liguria, che è l'ufficio decentrato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sta portando avanti da diverso tempo nelle diverse scuole della provincia di Torino. In passato abbiamo collaborato con ITER, con l'istruzione torinese per un'educazione responsabile dell'assessorato alle politiche educative della città di Torino, Abbiamo collaborato anche con l'assessorato all'istruzione del Comune di Collegno e anche con diverse scuole del Canavese. Il progetto, che prende il nome dal libretto che noi rilasciamo ai ragazzi al termine degli incontri, appunto Strada Amica, redatto dal Ministero, prevede un incontro per classe della durata di circa un'ora ed è diretto a far conoscere meglio ai ragazzi la strada, il comportamento del pedone, si parlerà dei veicoli, in particolare della bicicletta, del comportamento del ciclista, solo per citare alcuni argomenti che trattiamo in classe con i ragazzi. Ovviamente le tematiche sono differenti a seconda del ciclo di studio, in ogni caso ai ragazzi di qualsiasi ciclo scolastico viene spiegato il motivo di questi incontri, che è quello di comprendere che occorre rispettare le regole per tutelare la nostra incolumità e quella degli altri. Attraverso il rispetto delle regole fondamentali della sicurezza stradale li incoraggiamo ad un comportamento corretto, cerchiamo di sviluppare, di accrescere in loro quel senso di responsabilità e di rispetto verso gli altri. L'obiettivo quindi è quello di infondere loro quella cultura della sicurezza stradale che non è soltanto formata, come diceva lei, da un insieme di norme da impartire ai ragazzi, ma dalla consapevolezza che un comportamento corretto va ben oltre il rispetto del codice della strada in quanto deve porre al centro la vita e il rispetto per la persona. Ebbene, iniziativa che definire lo debole è riduttiva, anche perché ormai, lo diciamo spesso, ci siamo stancati di essere il cosiddetto fanalino di coda a livello mondiale o europeo, di prendere sempre esempio i paesi del nord per civiltà, per etica. Bene, ci siamo, stiamo riguadagnando posizioni assolutamente importanti, rimanga con noi perché le chiederemo aiuto per entrare nel dettaglio. Adesso vogliamo entrare nello specifico col dottor Lomazzo, perché parliamo di incidenti, di incidentalità, come giustamente lei mi ha detto, il termine è questo. Vogliamo fornire dei numeri, delle statistiche importanti, si parla spesso di trend positivo, comportamenti che sono migliorati da parte degli italiani sulla rete autostradale, sulle statali e invece nei centri urbani, come ricordava la mia collega Sonia. Siamo migliorati o abbiamo peggiorato, insomma? Guardate, secondo il dato della Polizia di Stato e dell'arma dei Carabinieri, che è stato pubblicato il 7 febbraio di quest'anno dal Ministero dell'Interno e con la circolare dell'andamento dell'incidentalità 2017 e 2018, sono diminuiti gli incidenti stradali nel complessivo, però sono diminuiti anche i feriti, ma sono aumentati gli incidenti stradali mortali e quindi anche il numero delle vittime. Questa tendenza mostra come la mortalità nelle nostre strade abbia assunto, dopo un interrotto trend positivo che è andato ben oltre un decennio, dal 2001 al 2014, abbia assunto un andamento altanellante, cioè un leggero aumento delle vittime nel 2015, una nuova diminuzione delle vittime nel 2016 e ahimè un aumento delle vittime nel 2017. Se si tiene conto, come giustamente è stato detto all'inizio, del numero dei dati offerti sempre dall'arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato sui primi giorni, le prime settimane del 2018, c'è stato un aumento delle vittime e un aumento dei feriti. Quindi l'incidentalità, questo andamento dell'incidentalità è preoccupante, innanzitutto non raggiungeremo il dimezzamento delle vittime entro il 2020 come imposto dall'Unione Europea e diventa un dato che d'esta preoccupazione. Quali sono le cause di incidente? Le cause maggiori degli incidenti sono la distrazione alla guida, l'eccessiva velocità, il Ministero ha predisposto dei video, che poi ne parleremo, dove vengono evidenziate le tematiche più a rischio e tra questi c'è proprio l'alta velocità, la distrazione alla guida, l'ha mancato uso delle cinture di sicurezza, l'uso anche del cellulare alla guida, sono tra le cause maggiori di incidentalità. A questo proposito, Dottor Lomazzo, adesso le chiedo di lavorare per noi, in quanto c'è stato un momento in cui di questi argomenti si parlava però, diciamo così, o in ambito burocratico, in politichese, con i numeri alla mano, o così da un pulpito, e non si raggiungeva quello che è il cuore, l'emotività delle persone, no? Che cosa accade, ragazzi, in un incidente stradale? Se non parliamo di morte, parliamo di gravissime disabilità, parliamo di perte... Allora, ci sono stati alcuni spot che mi rimangono nella mente che sono andati a toccare proprio la nostra vita quotidiana dei nostri cari e qui si è voluto comunicare col mezzo televisivo, è così, Dottor Lomazzo? Certo, è così. Devo dire che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre ai progetti di educazione stradale come Strada Amica, ma come tanti altri progetti ministeriali, offre un notevole contributo didattico anche con i video, con le campagne di comunicazione istituzionale. Ne vedremo alcuni, ce li vuole un po' raccontare cosa si è voluto fare? Nel 2016 il Ministero ha realizzato dei videoclip che sono stati trasmessi nei cinema sulle principali reti televisive e con protagonisti diversi personaggi. Ad ogni personaggio dello spot viene associata una delle cause che ha provocato il maggior numero di incidenti in Italia, dicevamo prima la distrazione alla guida, l'eccesso di velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza. E ciascun personaggio racconta come le proprie ambizioni, le proprie passioni, i propri desideri siano stati poi interrotti dal mancato uso, rispetto di una norma del codice della strada che ha influito negativamente sulla loro vita. Il protagonista degli spot racconta in prima persona momenti piacevoli del proprio passato che non potranno più ripetersi proprio a causa dell'incidente in cui ha perso la vita. E lo scopo della campagna di comunicazione istituzionale è quello di accrescere la consapevolezza dei rischi derivanti dal mancato rispetto del codice della strada e di sensibilizzare l'opinione pubblica di tutte le fasce d'età a tenere comportamenti e stili di guida corretti. Gli slogan e gli spot si concludono con il claim «Tornare indietro è impossibile» resta sulla buona strada. E se non ce li ricordiamo? Vediamoli. Li rivediamo. Certo. Del nostro primo anniversario ricordo tutto. Io portavo un vestito a Pua e lui la t-shirt delle grandi occasioni. È stata una serata perfetta e se la immagino fra 50 anni la vedo proprio così. Una cosa però la cambierei. Non gli scriverei più l'SMS della buonanotte mentre guido verso casa. Tornare indietro è impossibile. Resta sulla buona strada. Evitare distrazioni alla guida può salvarti la vita. Andare a scuola mi piace. La messa mi dice che sono bravo. Così mamma e papà mi hanno regalato la spada laser. E sono contento che adesso ci gioca il mio fratellino. Anche se insieme sarebbe più divertente. Solo che io non posso perché si sono dimenticati di mettermi sul seggiolino. Tornare indietro è impossibile. Resta sulla buona strada. Far viaggiare tuo figlio sul seggiolino è un obbligo che può salvargli la vita. Da allora io e Fabio un po' ci conosciamo. Di Dario mi sorprende che è sempre pronto ad ascoltare. Mi chiede scusa continuamente. Se avessi rallentato quando l'ho visto sulla bici non l'avrei investito uscendo di strada. Tornare indietro è impossibile. Resta sulla buona strada. Adeguare la velocità alle diverse situazioni è un obbligo che può salvare la tua vita e quella di chi ti sta intorno. Pochi mesi fa abbiamo preso una casa in campagna. Io mi ci vedo a sistemare il giardino, organizzare il barbecue. Chi mi conosce direbbe, beh, tu la bici, la natura, ce l'hai fatta. E' in questi momenti che penso al mio rimpianto più grande. Non aver acceso quella sera le luci della bici. Tornare indietro è impossibile. Resta sulla buona strada. Renderti ben visibile quando vai in bici può salvarti la vita. Sentirmi libero mi rende felice. Come quando mi lancio col paracadute. Vorrei provare certe sensazioni fino a 90 anni. Una libertà però questa volta non me la prenderei. In auto la cintura la terrei sempre allacciata. Tornare indietro è impossibile. Resta sulla buona strada. Viaggiare con le cinture di sicurezza anteriori e posteriori allacciate è un obbligo che può salvarti la vita. Bene, dobbiamo dire che quando si parla di comunicazione efficace questo è un esempio lampante. Scusate il tono, perdonateci, visti in un filotto così di servizi si tratta di spot che come abbiamo detto toccano davvero l'emotività, il cuore, le corde più sensibili di ognuno di noi, per fortuna esseri umani. Questo perché è stato fatto? Perché occorre sentirle alcune cose. Io lo dico parlando davvero al cuore delle persone. Si pensa spesso che debba capitare o che possa capitare solo agli altri. Che se si è automobilisti disciplinati su tutta una serie di comportamenti diciamo che c'è tutta una serie, uno spettro di comportamento etico come l'ha definito Sonia più volte che può salvarci la vita. Questo tipo di comunicazione arriva nelle famiglie con per fortuna il nostro mezzo, il mezzo televisivo la RAI ovviamente, per parlare alle persone. Era questo l'intento del Ministero? Certo, era questo l'intento del Ministero. Peraltro negli incontri con i ragazzi, nelle scuole proiettiamo anche i video facenti parti della campagna istituzionale del 2013 dove ci sono anche, vengono messi in scena anche degli incidenti ma dove non emerge la tragicità dell'incidente. Quello che emerge ed è importante è una contrapposizione tra la consapevolezza di un adulto che dovrebbe conoscere le norme del codice della strada e l'ingenuità dei bambini che pur non comprendendo in pieno il pericolo riescono con un linguaggio semplice apparentemente infantile a percepire correttamente a interpretare correttamente il pericolo più di un adulto. Allora vedremo la bambina che torna a casa da scuola accompagnata dal nonno che attraversa la strada oppure il bambino che fa notare alla mamma che sta premendo troppo sull'acceleratore oppure un bambino che spiega con un fare d'adulto alla propria compagna di banco l'importanza dei sistemi di ritenuta dei dispositivi per bambini veicolari. Lo scopo anche qui è quello di accrescere la consapevolezza rispetto alle tematiche più a rischio e di sensibilizzare il target di riferimento a comportamenti corretti. Il tutto viene sintetizzato anche nei disegni dei bambini più piccoli che chiudono alcuni di questi spot. Sicuramente il primo passo da farsi è in famiglia, a casa, tra le proprie mura domestiche è lì che bisogna prendere la prima educazione stradale e spesso questo non accade, vero dottor Lomazzo? Sicuramente è necessario perché le opportunità offerte dalla scuola, dagli enti locali o anche dal nostro ministero non sono sufficienti, è necessario il contributo, il coinvolgimento del primario e della famiglia e sin dalla tenerità dei nostri ragazzi la famiglia ha l'obbligo, il diritto, dovere di fornire le più elementari regole di comportamento confermandole con l'esempio o con la disapprovazione delle condotte di formi. È chiaro che un genitore che in assenza di controlli viola la segnaletica stradale non è un messaggio corretto per i propri figli che quindi ricevono un messaggio contraddittorio rispetto a quello che poi imparano a scuola. Da una figura così importante e fondamentale qual è il genitorio di riferimento della rete familiare più vicina, più prossima. Bene, dopo la pausa pubblicitaria siamo di nuovo in diretta con Full Optional Dite la Vostra a parlare di strada amica, strada sicura e naturalmente a vedere anche dei contributi video che ci fanno capire ancora una volta quanto la strada sia un ambiente a rischio. Protagonisti questa volta i bambini. Nonna, ti hai regalato una bici bellissima? Guarda, ho acceso le luci della bici? Proprio come le macchine. Non si è fermato, non si è fermato! La bici è andata sotto la macchina! Lo capisce anche un bambino un incidente in bici può avere conseguenze molto gravi ogni anno 300 ciclisti perdono la vita non rischiare, resta sulla buona strada. Nonno, meno male che siamo sul marciapiede certe macchine non li vedono proprio quelli che vanno a piedi. Ma stava per passare col rosso poteva metterci sotto! Lo capisce anche un bambino in un incidente il pedone può farsi molto male ogni anno sulla strada perdono la vita circa 600 pedoni non rischiare resta sulla buona strada. Papà! È vero che per guidare bisogna sempre stare alla testa? Certo! Ma papà, quella macchina che sta girando non l'ho visto! Adesso sbiettolo! Lo capisce anche un bambino che un incidente in moto può avere conseguenze molto gravi ogni anno muoiono più di 1100 persone non rischiare resta sulla buona strada. Ciao! Cosa hai fatto? Ti ero saluto con mamma sul sedile di dietro e papà è andato a sbattere con un'altra macchina. La tua mamma non ti ha tenuto? Sì, ma quando la macchina sbatte ti fa volare se non sei sul seggiolino. Io, infatti, ho sbattuto sul vetro. E perché? Quello che è successo al vostro compagno succede a tantissimi bambini ogni anno. E hanno tutte le ferite come lui? Qualcuno sì, ma qualcuno è più sfortunato. Ogni anno decine di bambini come voi muoiono a causa di incidenti stradali. Lo capisce anche un bambino. Senza sistemi di ritenuta i più piccoli rischiano la vita. Sulla strada ogni settimana muore un bambino. Non rischiare, resta sulla buona strada. Mamma, ma perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. non rischiare, resta sulla buona strada. Bene, è proprio vero se la comunicazione è fatta bene è davvero efficace. Sicuramente anche Lions Club e il dottor Ernesto Rossi sta facendo del suo meglio per essere efficace nella sua comunicazione, nella comunicazione del suo club. Non solo sposando questo progetto, ma comunque con tutti gli eventi che ha organizzato nel corso di questi mesi. dico bene. Grazie, ma vedete noi andiamo a rimorchio si può dire del Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti. Avete visto quanto è importante e prezioso il contributo del dottor Lomazzo. Devo precisare qual è il suo ruolo in seno al Ministero. Il dottor Lomazzo è il coordinatore interregionale per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta di un dipartimento che si occupa fra l'altro anche di educazione stradale e di sicurezza stradale. Vuole dire qualcosa in più, dottore? Volevo dire che presso ogni provveditorato interregionale per le opere pubbliche è presente una sezione che viene definita sezione circolazione e sicurezza stradale. La sezione è composta da funzionari ministeriali abilitati al servizio di polizia stradale in senso dell'articolo 12 del codice. Le competenze non sono solo quelle dell'educazione stradale e delle scuole. Le attività sono controlli e tutela sull'uso della strada sia urbana che straurbana con potere prescrittivo nei confronti dei proprietari delle strade e anche dei concessionari controllo della segnaletica stradale accertamento delle violazioni sia delle norme di comportamento che le violazioni che riguardano più da vicino gli enti locali come le pubblicità abusive le occupazioni i cantieri stradali ed infine la sezione emana dei pareri sui ricorsi gerarchici e sui ricorsi straordinari al presidente della repubblica in materia ovviamente di segnaletica stradale e collauda i percorsi delle gare automobilistiche su strada in qualità di componente della commissione di collaudo ai stessi dell'articolo 9,4 del codice della strada